buongiorno buongiorno oggi pranzo sul balcone guardate un po' una bella insalatona la cubesa pane sembra bello fresco formaggio sardo e qui invece abbiamo la stracciatella di bufala del mio paese napoli la ricotta e qua c'è la mina che mangia vi saluto caravente buon appetito a tutti ciao ha dimenticato il solito te ciao a tutti bella giornata di sole splendida proprio l'ideale per mangiare sul balcone